Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per Nevischio, segnalato tra Rioveggio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto, nel comune di Pieve-Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Balsavignone. I treni, ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero del personale fino alle 21. Non interessa frecce e treni a lunga percorrenza, previste cancellazioni e variazioni per i treni regionali. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!